Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Francesco Sarcina, nato nel 1976, è un famoso cantautore musicista italiano, noto soprattutto per essere il frontman del gruppo Le Vibrazioni. La sua carriera musicale ha preso il via negli anni 90 e da allora ha collezionato numerosi successi, con brani come dedicato a Vieni da me, tantissimo e molti altri. Dal punto di vista personale, Francesco Sarcina ha tre figli. Tobia Sebastiano, nato nel 2007 dalla sua precedente relazione con Diana, Nina, nata nel 2015 dalla sua ex moglie Clizia Incorvaia e Yelaya, nata nel 2021 dalla sua attuale moglie, la modella Naira Garibo, con cui si è appena sposato. Naira Garibo è una modella di origini messicane con la passione per il volo, essendo anche pilota di aerei professionista. La coppia si è conosciuta nel 2019, dopo la separazione di Francesco dalla sua ex moglie, e da allora hanno deciso di vivere insieme in Italia. Nonostante i 18 anni di differenza, la loro relazione è solida e nel 2021 hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, Yelaya, seguita dal matrimonio avvenuto il 8 ottobre 2024. Il matrimonio tra Francesco Sarcina e Naira Garibo si è svolto in Puglia, a Fasano, presso la masseria La Macina, in una cerimonia total white all'aperto. La madre del cantante lo ha accompagnato all'altare, mentre la cerimonia civile è stata ufficiata da Pinuccio, noto inviato di Striscia alla Notizia e amico della coppia. Dopo il rito è seguito un grande parti con balli, canti ed esibizioni di Sarcina, che ha emozionato tutti con il tradizionale